Il decreto ci dà una tempistica che viene identificata nella possibilità di gestire la domanda entro la fine del mese successivo a quello della richiesta. Noi immaginiamo di poter procedere con i flussi e quindi con le disposizioni di pagamento per il 27 di aprile, di modo che dal 1 maggio possano essere disponibili presso poste italiane.